Una terra ricca di informazioni. Mi manca l'oscurità del vuoto. Mmm, straordinario. Umani, semplici, disordinati, ma eccezionali. Lo schema è chiaro. Queste creature possono essere disgustose. Le tue probabilità di sopravvivere sono inferiori a zero. Vediamo di cosa sono fatti. L'aspetto di queste creature pare non trasferibile. Potresti percepire un lieve incenerimento. Hai per caso degli organi superflui? Mmm, è una specie molto fragile. Cos'altro posso scoprire? Le ossa sono davvero poco flessibili. Per ora nessuno è sopravvissuto ai test preliminari. Grazie per il tuo contributo. No, i loro gomiti sono osceni. No, la luce qui è violenta. Oh, il vuoto. Mi manca l'oscurità. La mia presenza sembra innervosirli. Curioso. La ricerca richiede una buona coordinazione. Occhio tentacolo. Atteniamo. Tento skeletonico interessante. Il modo migliore per identificare il sesso è ascoltare le urla. I loro arti sono ridondanti. La violenza sembra essere la risposta universale. Hanno smesso di evolversi? Che interessante reazione al dolore. Il punto di fusione degli umani rimane variabile. Nulla sembra ricrescere dopo una dissezione. Oh, un'altra entità di valore. La creatura sembra invocare la sua unità materna. Vediamo. Due corriborta di set. Occhio tentesi. Mi serviranno infiniti campioni in più. Prendo atto del tuo dolore. La creatura si lamenta durante la dissezione. Con alta concentrazione di soggetti eccellente. Quanto meno inaspettato. Le lacrime sembrano una funzione inutile. Che evoluzione affascinante. Devo osservare più da vicino. Frase umoristica sulla riproduzione delle forme di vita. Devo saperne di più. Che segreti nascondi. C'è molto da imparare su questo mondo. Strane creature di carne e sangue. Hanno una grande arrietà di aroni interni. C'è molto da imparare su questo mondo. C'è molto da imparare su questo mondo. C'è molto da imparare su questo mondo.